Ciao a tutti, oggi prepareremo le carote al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono carote pelate e tagliate a pezzetti, olio evo, succo di limone, sale, aglio senza anima, menta e la scorza di limone. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il succo di limone, la scorza di limone, l'aglio senza anima, il sale, le foglioline di menta e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10 mettere da parte senza lavare il boccale mettere le carote e le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la salsa e fare amalgamare per 10 secondi a velocità 2 le carote sono pronte, impiattare e servire carote al limone grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti